sono arrivato a trassilico trassilico è uno dei paesetti che potrete trovare quando venite a pedalare verso il giro del gran fondo del vento e sembra che in questa meravigliosa chiesa oggi suoni un organo del 1700 ora vado a vedere se è vero perché alle 5 cominciava io ci sono capitato per caso e vediamo se è così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti